Eh, sto pigiando ora. Ho detto si può partire sullo streaming, intendevo. Ah beh, se te lo... se te il coso, eh. Se te è Uga, abitano. Quanto c'è di delay? Perché non ti vedo neanche ancora online. È 19 secondi che è partita, via. Io sto aggiornando. Allora ho fatto scordare che volevo fare. Che cazzo volevo fare? Non lo ricordo ne. Eh, che cazzo. Ok. Ora dovrò... Sì. Allora. C'è lo terzo alle 16. Abbiamo tutto quello che serve, vi potrei prendere anche qualcosa un po' lontanino. Ma questa è quella con la giungla tutta da un lato, eh? Con le case... Sì, sì, lo so, lo so. È quella che abbiamo fatto prima, un po' di mazzurro, per io. No, oggi non si è mai fatta, mi sa, questa qui, eh. Prima quando ti è staccato. Ah, ok. Comunque, sbaglio la webcam mia. È un po' troppo bassa. Bassa? Che vuol dire? Come visuale. Ah, forse ho tagliato io troppo la testa, sopra la testa. Ma faccio... Sono rinquadrati il resto della stanza. Ah, beh, sticato. Allora, uno, sto andando a destra, vi lo sto seguendo. Mentre... Ah, beh, siamo tutti lì qua, ok. I nemici stanno facendo rumore. Come vai a fare rumore? Abbiamo tirato il drone? No. Ok, boh. Allora, c'è qua il disturbatore vicino, eh. Preso, è morto. Scout, ma c'è qua anche il disturbatore. Ma è morto uno. No, no, è come gli attori gli attori. Chi l'ha ammazzato? Il disturbatore. Ah, è sull'altra tetta. Ma cazzo... Ma lo scout non è... Di loro non è stato ammazzato qui? Eh, l'ha restato, no? Eh, sì, ma non era morto dal nostro lato, intendo. Eh, sì, pareva pure a me. Ma dai! Ce n'è uno qui, eh? Dov'è? Qui, in dove ho pingato. Ok. Rilevata attività ostina, segno la posizione. Ok, quello là sul tetto. Come cazzo sei morto, Somi? Gli alleati sono a terra, obiettivo ha fallito. Qua, guarda quello là dove si era sdraiato per terra. Questa partita qua, mi sa che non si vengia. No. E' un dupli prestigio, quello è bello. Sono tutte e due pre-made, quelli nostri due, e sono tutte e due. Uno ha iniziato per poco, però è già a livello 50. L'altro è più o meno una mai smesso di giocare, perché è prestigio 8. E' lì il brutto, no il bello. Però non ho capito come quello là, è stato restato in fredda. Avevano il predator anche loro, mi pare. Ha usato l'adrenaline, vedrai. Ma il discorso è che si ammolti a merda all'inizio, perché, cioè, se era fatto fare lo scout, se era un vantaggio a bestia. Poi la posizione in dove saranno il predator nostro, cioè, se fai la kill bene, però poi dopo ti devi iniziare a muovere, a guardar di e boia da tutte le parti, perché se no, dopo vieni scoperto che se lì sul tetto ti fanno ma... Cioè, ti fanno fuori a bestia. Ma perché lì non ho capito come fai a salire sul tetto, tra l'altro? Devi entrare... A metà della stanza lì, c'è a metà della stanza, c'è uno spazio fra una casa e l'altra, e vai nel centro, sul lato stretto, intendo, della casa. E ti ci viene per premessare. Il disturbo ad ora è là. Attenzione, rilevata attività ostile. Entrato qui. No, ma è troppo YOLO. Attenzione, rilevata attività ostile. Sto piazzando una mina. C'è un segnale dalla torre di ricognizione, presto sarà attiva. Ma pingato sul tetto! Ma sul tetto non c'è nessuno. Invece c'è. Attenzione, rilevata attività ostile. Il bersaglio è abbattuto. Cazzo, ma... Eh, sono morto nel fossato, ma c'era il Predator. Ah, l'hai fatto il Predator. Eh, vabbè, ma hanno sparato da dietro, ma hanno sparato da per in là. Eh, fanculo... Gli alleati sono a terra. Gli alleati sono a terra, obiettivo fallito. Si può... Ma non può giocare, questa è la partitrice. Quelli vanno a YOLO. Sta gente via... Pai YOLO. Eh, non serve a niente. Coglione del suo amico, nemmeno lefta. Ah, è una madre. Cioè... Eh, questi pensano di essere color dusi. Eh... Ah, è una madre. Ah, è una madre. Quanti gradi è la scheda video? Con TRIFLOW MONITOR. Allora... Io ho usato a cava, eh. Cioè, se ne ho fatto vincere. Allora, vediamo un po'. Ah, 45 gradi, va bene. Per ora. Utilizzo... 41 Memorial, 39%. 41 gradi va bene l'M2. Chissà. 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 Grazie a tutti. No, vabbè, memory utilizzo 39%, 38% con 3 monitor, quindi direi che non c'ho problemi di VRAM, e via, posso anche chiudere. Rilevata attività ostile, segno la posizione. Sono tutti lì alla corinetta. Ma ti hanno spaccato il drone? Sì, sì. Ok, allora, prego. Attivo il drone. Sì, ma io li ho smoccato lì nella zona. Drone nemico sulla testa. I nemici stanno facendo rumore. Merda. Il cipino è là sopra, non vedo dov'è. È dietro la punetta, quindi non lo becca. Oh, ma ci sa due che sono ranged. E no... Che fatto? Eh, io ho sparato a lui, lui ho sparato a me. Devo curare. Due ranged. E nessuno che sparava al cazzo di... Attenzione, rilevata attività ostile. Sanno dove sono. Contatto visivo interrotto. Tutto ok. Sta arrivando il Vesel. Il Vesel. Vento una raggiunta. Resta un nemico. Dai, pushate, pushate, che è qui. No, no, stava arrivando lui. È qui. No, sta tornando indietro perché è morto. Tira amici il fumo, tira amici il fumo e lo vado a chiappare. Non ce l'ho ne ancora, non ce l'ho ne ancora. Ah. Ah, è un adrenalin rush. Cazzo, rischio. E ora me li resta tutte e due, eh. Fatti. Vabbè, fammi, non esporti tanto. Prendete questa. Vi stanno sorvegliando. Rilevata attività ostile. Segno la posizione. No, no. La torre è in ricognizione o da. Vi avvericami. Porco Dio. Porco Dio. Ma te come cazzo è fatta a morire? Ma se ne hai parato. Siamo con due, quindi sono buoni da una sega. Via. Bella intesa. Tre contro uno, ragazzi. Non vi siete mossi nessuno. No, no. Io ero lì. Ero lì anche miravo il tuo. Ma non devi mi danni. Devi nì. Facciamo fatto io. Perché non mi viene a restare il nostro stonzo? Perché se ne è mezzo a cosa, ha paura che tu muoia. Cioè che ci muoia lui. Ma che fa questo? Ne resta, ne spara. Ma che cazzo fa? Mette la pistola. Ma che fa? Ma. Ma guardalo. Ma spara, di coglione. Mamma mia. Mamma mia che capra che è questa qui. Gli alleati sono a terra. Obiettivo fallito. Mamma mia. Vedi qual è il brutto? Che questa gente qui è... Ah no, in prestigi. Ok. Prestigio 6 addirittura era. Vabbè, in culo lo sniper non è due perché tanto sono in... L'hai preso te? No. Io ho preso la spia. Vedo vedere cosa prendono se... Se ha preso la spia. Scegli la classe Tommy. Non so se prende il cacciatore o la sentinella. Vafal. Hai preso la sentinella a te? No. No, il cacciatore. Siamo 4 mili. Sì, sì, perdiamo e via. Dai, intanto questi sono dei coglioni anche questi. Lascia perdere. Quello non... Io ho piccato all'ultimo secondo. Quello non piccava. Avevi già... Uno, il cecchino della spia che è andata a prendere la sentinella. Se è un coglione vuoi perdere, è bene perdere. Si va con 4 range e via. No, ma io infatti non volevo piccare la spia. No, no, ma il terzo... La terza persona che ha piccato, intendo, che ha piccato due secondi prima che scadesse il tempo. Io all'ultimo secondo. Ha piccato un altro sniper. C'è un altro maresman. Se è prestigio 6 e hai... Il cervello di una scimmia. E quindi è bene perdere. E andiamo con 4 marksman e via. Boom! Istamorto! Porca madonna! Dovevo spararla, l'avevo presa. Uccisione. Cazzo, mi hanno scoperto. Contatto visivo nemico interrotto. Ho sparato 700 pistolettate e non è morto. Capra via, bestia. Non si è accorto di nulla, Lu qui. Questo non aveva visto niente che c'era uno di loro dietro di noi. Sta gente qui che pensa solo alle kill e basta. Sta gente qui che pensa solo alle kill e basta. Beh, chi ha detto che ci sia un altro mares. Oc bringe i Questa ha fatto Ora voglio vedere Se hanno vinto o hanno perso Il round di prima Direi che hanno perso Visto che ne ha leftato due persone Questa presso lo sniper Se ne è fottuto di tutto E faceva solo le kill E però hanno perso Perché non serve a nulla Fare solo le kill Round 3 infatti Vediamo un po' Ah no è pari Round e pari Attenzione Mi hanno anche scordato di vedere Andiamo al livello 1 Mi hanno anche scordato di vedere Attenzione drone nemico Granata Sera di giorno o di notte Per i colori Ma l'eliminazione è quella Questa cosa? No questo è il click Della torretta Della torretta A te con che sei con il Predator O di notte Attenzione drone nemico Ma te dove sei sulla torre di Ebo? Sono a 12 metri dal punto d'accesso Ma sai che vedo qualcuno sulla torre Sulla torre dei cecchini, non tendi? Sì, sì Rilevata attività ostile, segno la posizione Uno in meno E uno è dritto per dritto qua avanti a noi Sì, ho visto il pallino giallo ma non ho visto... non vedo lui Non ho visto neanche dove sparava Eh, deve essere... io ho visto il pallino giallo sulle scale Deve essere lì abbassato dietro l'inferiata rossa Punto di accesso stabilito, pensate al terminale Oh, eccolo da dietro Bella Lo scout sta usando il drone, ne manca uno, chi sarà? Bombardiere Stiamo prendendo il punto d'accesso, difendete la posizione No, 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 clicca, clicca Proteggimi, proteggimi Eh, sono qui in piedi L'ho visto, è lì Sì, sì, tanto mi sto ricaricando di vita E' ancora là quel bastardo Ah, eccolo là E' qui No, no, è quello E' quello là Ho fatto bene da attivare e mollare così Era un adrenaline rush Chi era un adrenaline rush? Io, io Non so Non so quanto ti mancava del... Ah, mi mancava, mi mancava circa il metà ma ho mollato apposta Ti mancava sempre il metà? Allora no, non ce l'avresti fatto No, mi avrebbe ammazzato Però sto cosa fa un danno a boia, eh Com'è Milinkovic? C'ha vincit 86? Ci ho fatto due partite Eh, sei notato tanto la differenza? No Come no, cazzo? No No, ma ho fatto due partite Una l'ho... O l'ho persa tutte e due O l'ho persa una... Ma mi sono persa tutte e due E ci avrò fatto due tiri Non sono arrivato a fare nulla In quelle due partite lì Erano giocabili Eh, ma questa settimana non lo faccio fare classe due Perché venerdì devo andare all'F col mio amico Com'è? Perché ha comprato un... Deve comprare un camion E quindi lo devo accompagnare lassù E quindi non lo so se faccio un tempo a fare le squad battle Penso di sì E il problema è che sabato vuole andare a raccattare dei cosi Deci pressi in culo Lassi Invezzo sieno Dopo sieno Che Speriamo che diluvi Perché se no mi tocca andarci Bastardo E quindi salto 12 partite E quindi E' impossibile che facci fuori classe Due Quindi anche se ne perdo una marea da ora Poi cambia po' Aspettate che è quello Base nella giungla L'eliminazione Cazzo è una base nella giungla Che non mi viene in mente? O no O non mette anche io Prendo il tecnico Io prendo un supporto Che pillice C'è che vado di Ranger Allora asciugalo Lo sento il drone Voi non riesco a vendere Buonaventura ora Incredibile Incredibile Ragazzi Porco Gesù Cos'era l'eliminazione Che non ricordo Si Eliminazione Ah Base nella giungla E quella stretta Con quelle case al centro Già 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 Wow Vabbè Vediamo il drone Il drone è partito I nemici Stanno facendo rumore Abbiamo già uno Che è in culo di lupi Sì Sì ma infatti Sì ma infatti Sà l'assassino E l'altro Dovresti Si dovrebbe andare avanti Tutti E' buona Non c'è la pingara lì E' topingato Perché non mi s'era marcato Attenzione Rilevata attività ostile Cazzo La torre di ricognizione è online Anche uno sembrava che E' qui Deve essere un l'albero Sì il sentinella Ancora lì Allora lo becchi Allora lo becchi Perché ti tiro su L'anfaccia Se ne lo marcava un secondo Più di ritardo Moriva male Ma hanno sparato a me O hanno sparato al drone No hanno sparato al drone Chi non si sa O io provo La torre Porca madonna Porca madonna Ma hanno sparato Ci deve essere il cretino Con la Da dove? Da dove ti hanno sparato? Eh ma hanno sparato da qua Secondo me c'è il Quello con la balestra Quello con la balestra Ecco perché non puoi marcarlo Non ho mai Non è la questione Che non posso marcarlo La questione che proprio No Non si è sentito niente Eh ancora guarda Merda È lui È lui È O qua O qua Robe Da quella direzione lì Ma ha spaccato il drone Ma ha segnato il colpo Provo a andarmi a cura Vengo verso di te In casa così Mi riesco Ma che cazzo fa? Questo è un ritardato Aspetta Aspetta Ora muore Lo snag Muore lui eh No ce l'ha fatta Che culo Eh si vedi Era quello con la Con la balestrina Ma che spaga Dietro un albero Meno male Sono venuto qui Che c'era vicino La casse Medica E io vado a prendere Pointman eh È intenibile Vesto Quest'arma qui Dove cazzo sta a scappà Quello lì Ci vuole uno che stia Antorre Ci stai te? Sì 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 Sta scappando Per Eh sì sì Vai Il discorso è che questa è una trenana in rush Chissà Ciro Cioè Vabbè la mappa finisce Cioè Cioè Ri vicino Il pointman E adesso vado a stringere anche di qua No no lo fa Lo fa Forza nemica Forza nemica e neutralizzata Sì non è una mappa dove puoi pensare di scappare così A due minuti che Cioè mancavano due minuti Ciao rinculo Ciao iron predator Scusa ma E' un pegnato Non ho visto Il messaggio Eh sì Gio Cazzo toro o sentinella Nessuno del due Nessuno del due Un pezzo di merda Eh per me nessuno del due Ecco Questo ci sta già di più Sono prestigio 6 Livello 10 20 Non so Ma ti fai conto che 4 mesi è un gioco eh Ho ricominciato che 3 giorni così Solo la sera Perché si gioca in 3-4 persone Ora siamo in 2 Però di solito siamo in 3-4 E quindi ho ricominciato per quello Per vedere un po' Eh Le nuove mappe Le nuove classi La nuova modalità La nuova modalità La nuova modalità La fauna Su scazio Cazzo Drone in volo Cazzo Credo che uno sia già arrivato qua da noi E quindi che vorresti di che ce lo frammette Può essere C'è chi ne l'ha Ok Spostati Dove ti posso avere in mira Aspetta un attimo Ma il discorso che spostati dove mi puoi avere in mira Eh sì ma se io mi sposto Mi ammazzano Secondo me E quindi Sono andati troppo avanti questi qua Sono andati io lì Buonissimo Quanto ti manca il drone? Ce l'ho Io lo tirerei Lo manderei alla tua sinistra E esplorerei tutto qua l'aria Rilevando attività ostile Segno la posizione Infatti c'è quello lì Dio santissimo Mano marcato Eh vabbè Fagli arrivà Che io sono qui sdraiato Ce l'ho uno anche dietro Ce n'è due dietro Ce n'era qui due Mi stanno sparando male C'è di nuovo l'esploratore Uomo a terra Uomo a terra Se è fatto fa Oh è quello lì Oh è una pianta No è una pianta Ma che cazzo corri cretino Oh e non mi si muove più Come ho fatto a rompere il drone E l'ha sdraiato a terra Ma te ce la fai res A quello che è morto? Eh sopra il tetto Ci prova Ho sentito arrivare uno qui a corsa O non lo vedo Dove cazzo Fai lì fermo Non fatti beccare Tutto bene Sì ma guarda È lì scemo Rimane in piedi Questo se è fatto ammazzando Da te fk ci scommetti C'ho uno qui d'intorno a un millimetro Che non mi riesce a vederlo Mi trova col binocolo E se tiro fuori il drone O mi muovo Mi fanno garantito Il fatto è che questo qua è Cazzo è fk Ma che fa Che l'altro No 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 Ora no Ora sei morto Sì è l'avanguardia Sono qui sotto Sono sotto la torre Due Dove ci sono io Vabbè E allora Provo Ah sì L'ho visto uno Guarda L'ho visto uno lì Vabbè Ti sentite Stai pronto a sparare addosso a me Aspetta 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 Non è morto Non lo vedo Non lo vedo E' sparito E' ringere sotto Granata Aspetta Uomo a terra Fuori Granata E' ancora lì Ce n'è un altro Ce n'è un altro Ce n'è un altro Perché mi Deve essere sdraiato sotto le E' sotto Proprio sotto il pavimento Deve essere Che c'è lo spazio Sotto il pavimento E' rialzato da terra Deve essere lì sotto Perché mi ha M'ha pingato di bianco Il drone Però non lo vedo Si deve essere mossa Dobbiamo attivare la cosa Che se no Riscappa Un minuto Che è Ha smesso di cliccare Perché è una capra Clicca Ha pingato E' da dietro Da dietro E' sempre L'esploratore Da dietro dove? Qui LOL Ah ah Ma l'avevi visto O ci ho sperato a caso? No no L'ho visto Ma ci siete Allora Merde Si Aspetta che ti invito Ma ti ho mandato anche un messaggio Creos Maledetta Capra Ma che cazzo Come si fa Come si fa Si Qui Cazzo Ma Si può L'ho rialzato Quello lì Sì 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 Ah ok Sarà stato mezz'ora In FK C'è La gente Creos Accetta Porco Gesù Ah no Però si era vinto Questo round Usciamo un po' Scusa Me ne era accorto Certo Come puoi Non vincere con me Tommy Vediamo il latro Dove è Creos Eh ma non è online Ma il cazzo Staffa Sentite Si Ah E che cazzo ne so Sentivo Accetta Accetta Dicevo Ma come accetta Attacca la webcam Merda Porco dio Che palle Comunque Fala un po' più grossa La web Ma è perché c'è triplo Ora web Devo No no lo so Lo so ma lo spazio allargano Infatti un po' di filo Eh ora l'allargo No io no cazzo Deve stare Qui dove sono io A parte Anche perché vabbè Che gli dico Ciò E Ormai ora mi si vede No Comunque la copertura In certe situazioni Davvero buono Quaimai si taglia La Ah perché ho fatto Già il corso Scusa Quindi ci ha detto Me e non ci ride Stasera Vero No ha detto di no Mi ha detto in ritardo Sti cazzo di messaggi Ti ho risposto Ti ho detto L'ho letto Quando ti ho risposto Alle 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 dieci Praticamente Porco Devo cambiare cellulare Finchè non cambiare cellulare È così Io non so Quello vi vedevo su disco L'ho letto Ma scusa Su disco Te lo vedi Nella barra di destra Nella colonna di destra Che ci vedi scritto Che Stiamo giocando A coso Lo dovresti vedere scritto Eh sì Ma l'ho visto Quando sono tornato a vedere A metterle letta fa Insomma alle dieci Deci minuti fa Allora Assalto Cosa devo sbloccare Il secondo del po' Che è malesiani? No Sto scusando Dunque mi viene da risolvere A 5 mesi Sembra malesiani Vabbè Va bene Direi che lo posso lasciare così La web Ah aspetta Ma se l'ho entrata Solti Deve solo Da 5 mesi Tranquillo Mollo Sembra malesiani Mamma mia Ah 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 Dai cazzo Vadovi sta bene Ah no Sono access in progress E voglio vedere come si compra il set Di presa Ma la maschera Tutto voglio La maschera nel negozio mi pare Eh sì ma non me lo fa accedere Ah Forse perché siamo ancora Che si fa? Eh Aspetta Ah va affanculo Aspetta Elimination Extraction Extraction Voglio andare alla fin Ah sì vabbè Deforestation Per l'altro Bello Troppo troppo grosso Bene 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 Una sentirena Se però lo metto qui Prendo bene qua Ah Guarda Cazzo Stavo mandando lo screen per farmi dare i soldi ok si dovrebbe vedere a modo da che parte si va a creare se a sinistra o a destra come mi fa questi flash psichedelici non sarà mia la scheda video che mi danno gli altri il terzo monitor fammi un po' spieghi e non vedo nessuno no possibile che cazzo sta succedendo merda multiclass no cazzo ho spento il monitor mi ha messo la roba tutta l'ora da cassino beh ma andato il drone che cazzo come facciamo da su drone ma non so mica se alla reclus avevano levato il drone non c'è altro è nulla ma che cazzo dite davvero l'hanno levato si ma già dalla pace da duppacce fa e da quando misero fuori che scandalo secondo me la sta a pigliam culo la scheda video si ma che cazzo siete a fargli che io sono qui con da solo con una merda ah ma te sei andato a destra e che stavo a fare andavo dietro a lui vieni con me vieni no ma perché da sinistra è perché ormai lui era andato là e cazzo ne so stavo a seguire tutti ok ma hanno sparato ma hanno marcato no la scheda video continua a fare questi flash sulle texture ma intanto questi fanno il giro da un lato o dall'altro e lo fanno di sicuro perché sanno che sei lì e chi sa è esploso da solo è esploso che cazzo c'entra l'ho esploso con la pistolina si può essere ovunque ecco si infatti ammetto ovunque che la torre di ricognizione è un lato poi andiamo giù al centro raga dritto per dritto andà no no qui come mai mi fa questi glitch grafici quindi ok ora cazzo è successo ma è andata sempre perfetta sta mappa bene beh mi resta da sapere che io non vedo nessuno se non vedi nessuno sulla destra io scendoci un dritto per dritto allora secondo me stanno facendo il giro da sinistra invece e la nostra sentinella ci schianta male hanno tirato il sat come loro hanno rimarchiato vuol dire che ci hanno visto che scende ah c'è uno là i nemici sono tutti uno è dentro ah ok ho visto la spia si è una spia io sono qui che mi cura ok 65 metri provo andando andiamo andiamo in agile attenzione rilevata attività ostile carica innescata madonna messire de merda ok c'è qualcuno per in là vedi con che classe attiro il fuoco io sentinella l'ho danneggiato un po' hai visto? eh non ho visto niente perché sto correndo a riculami perché sono messo basso di ma dov'era l'ho visto quello che si è marcato il discorso è che il nostro sentinella ragazzi schiora di lì porca di quella puttana quanto cazzo dura arrivo arrivo ma eeeh non so senti merda eeeh ma boh si in due secondi mi fa luna ok me lo pinghi più o meno me lo pinghi me lo pinghi più o meno e dietro i tronchi esperto porco dino è sopra di te demico a terra a sinistra se c'è è più o meno di queste parti ma è un po' un rischio era meglio restare i doveri e uccidere i gatti signore io sono da solo eeeh ma arriva fanculo one shot da full vita l'assassino col vector ma che cazzo è e infatti anche me boh bellamente shottato ma è ma no ma guarda dove è il nostro sentinella guarda il secchio nostro è occhio è andato da parte dove siamo avvistati noi Nigel ma il problema no si ma il problema è che io qua ho mattato uno cioè ho visto lo sniper mi ha sparato da lontano da dove cazzo fare torna indietro no ma questa è un idiota ma questo sta camperato dentro la casa il nostro sentinella è camperato dentro una casa ecco l'hai visto si e là su dove c'è è sulla collina no ma non l'ammazzi da lì no no ma è persa questa partita lì il nostro cecchino sta rientanato lì nella casa non l'ammazzi mai premesso che premesso che c'è un assassino sui nostri cadaveri che come spara un colpo allo sniper allo sniper l'assassino lo ammazza si è mosso ma che cazzo non ci può resta se resta me muore vabbè ma tanto l'altro non si è messo a fare il giro perciò no resta te che sei nel mezzo così alla strada no vabbè perché sono il medico oh c'è lì eh occhio non lo so l'ho visto da qualche parte veramente tira il drone tira il drone che fai eh ho capito sta a fare la torre sta a fare la torre non gli spara guardate il caprone guardate il caprone è il nemico è il nemico lo so che è il nemico che fa la torre è il nemico la nostra maledetto coglione lui non gli sparava vabbè manca 15 secondi non moriamo si pareggia dai ormai che scandalo sono morto dio bestia lo voto per voto per chiccarlo eh voto per chiccarlo chiccarlo su chiccarlo su no ci da l'altra persona se lo chicchi subito mamma mia che scandalo lui qua non penso si possa nemmeno si si pigia home pigia home pigia home come sei già nella lobby io doveva farlo prima pigia home lo vedo anche nella lobby c'è scritto espulsione di chicca in ass richiesta votazione pigia home ok il problema è che ci ha messo troppo e ora non ce lo è che ci ha messo comunque questi non usano un drone quindi sarebbe quasi da non prenderlo il deck prendo il point e andiamo e andiamo 3 contro 4 molto utile eh sei lento vabbè eravamo comunque 3 contro 4 ma comunque e comunque eri 3 contro 4 lo stesso cioè avrà fatto uno spuso non avrà fatto non te lo trovo te lo fai aggiornare dopo come ho fatto adesso ok e vabbè e finì che ok c'ha il dronico sulla destra e che sta sparando Eh Nigel Ma Ce la fai a chiappa quel cazzo di drone Ok No ma stavo sparando prima il cecchino Ma come? Prima sparì al cecchino e poi al drone? Eh L'ho fatto scappare infatti si è spostato Eh ma il drone ci marca Il cecchino Non ci arrivavo a sparargli subito Fa cagare questo fucillo Il cecchino è a 400 metri Il drone era a 160 Oh ce n'è uno qui davanti a me Dov'è? Il bersaglio aperta Ah Andiamo a metterci la mina Però se mi copito un po' Pensavo fosse la mia È minato? Eh no Ma lo vedi il corpo? Eh si 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 Non sono quagliato di te Presto sarà attiva Sono sotto fuoco pesante Segno la posizione Ma ti levi da lì che tanto non lo vecchi il cecchino No l'avevo Stavo sparando Si con la pistola No no ma chi c'ha il fucile? Io eh Mi devo andare Porca puttana c'è il bidone Il bidone vi rimpianto no? E poi sei qui Anche te Porca puttana Infatti mi son messo qui sdraiato Perché è una posizione di merda Non riesco a mirar il cecchino Non so dove si Niente Si è spostata Nello solito punto Eh lo so Ci ho mirato là sulla cassetta Non lo vedo Io sono qua dove c'è la torre Vaffanculo L'hai visto Creos? Ma perché sei tornato indietro? Che io? Creos Secondo te io restavo a morire lì con te Ma Cristo Ma si continua andavanti Per prenderli alle spalle Oh guarda che ressa eh Dai ressa neanche te A parte che no Non mi ressacco il drone Perché c'è quello che mi ha ammazzato C'è il medico sopra la mia testa Comunque mi ha ammazzato il medico me Quindi ci sarà la mina garantito Tu vai Vai dentro No ma che cazzo a destra Ma chi è buona ragazzi No appena appena perché Ma dove cazzo E' andata in buscata E' dietro l'albero Ma questo è citato di schiena Questa è la serata in cui la gente è sciotta indipendentemente dalla classe Dai ressa Creos che aspetti Fermo un attimo Se ne adrenali in rush Non so ma l'hanno ammazzato qua in mezzo L'ha ammazzato il medico l'ha ammazzato non il cecchino C'era uno là dietro che segnava di spari Ma te chissà che hai visto dietro Occhio che c'è il probabile una mina Restami col drone Restami col drone Aspetta Restami col drone Che se scoppia la mina e rimuoio Nigel mi ressa Faccio così io E ti spari no Mi ha sparato qualcuno là dietro? Si è là alle rocce dai Ok perfetto Eccolo laggiù Cecchino di merda E ora lo vado a prendere Quella merda lì L'altro mai restato con metà vita Boh no Che c'hai io Non me lo ricordo che ci sia Vai marcalo così grande Dov'è? Eh più o meno Ma dov'è? Ma te da dove sei in agil non lo puoi beccar Quindi devi venirmi dire Ero su Ero su le cose No no becchi qui C'è tutte le casette Allora regà Provo a fare BB E voi al massimo lo avanzate Torre di ricognizione Poi Stiamo seguendo quando Mi stai chiamato Gino tondo Secondo me Stanno dai corpi Ma no Sono qua io i corpi Che cazzo Non andare Tommy va Va da lui Ciro tondo Buone Mi sembri Ciro tondo Mi sembri E per forza Ve li spotto tutti Ce l'avete davanti agli occhi Non riuscire comunque a vedere L'ho fatti fuori tutti Ma che cazzo Steady Via Eri al momento del tech Vediamo Zaymon A tre contro quattro Si è vinto Comunque Si Giusto per dirla Si Capito Te con l'unicorno Lì Ah già Hanno modificato il titolo In triple webcam Abbiamo il supereroe Pieno giorno Sole che spacca le pietre Lui prenderà Ah già perché vedrai che c'è C'è poi vestiti anche con l'affari Ti puoi vestire con i vestiti di Rainbow Six Siege ora Sì 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 Realmente c'è anche quello Ma che cosa devi costumere Eh è quello tipo Ma va te ne ha letto tutto bianco così ti mori entro un secondo mori Eh vabbè ma già lo capisci già subito dalla classe voglio dire C'è uno che ti prende l'assassin qua Giusto prima Ecco la smith E' sceso eh Ma andiamo dentro Puoi restare l'indietro con le altre cose Andiamo dentro nella cassa di legno E te cecchina dal tetto Come fascia quella merda l'altro giorno Che sei anche silenziato Oh mi sta venendo a prendere Eccolo Eh vabbè Medico Bishot Medico Bishot Ah no l'avevo ci ho messo a triple web Eh ma non venite Eh perché io Non me l'ho visto Cerco di vederli Ma scusa Sarà il caso invece di andare contro Allora uno è sdragliato sopra il mio corpo Merda Guarda gli ho tolto un po' di vita Vado a restare il coglione Aspetta guarda che ho matato Arressone è morto Il coglione è morto Mico da lontano Da vicino eh Secondo me Ah ma col drone lo è Eh sì C'è la mina cazzo È morto già È morto già sì Di mina Lo potrebbe resta a Nigel Ma sentivo che ne sparavano Vuol dire che so Oh ce n'è uno qui in Nigel eh Ce n'è uno più arrivi davanti a te Ma l'ha missato È in soppressione era Ok Oh il drone Il drone Il drone Spara il drone Niente Ti ha arressato Il sentinello Laggi Vabbè lo potete restare a mano Zymon Però occhio Nigel te coprilo Perché se no No Il sentinello è basta È vicino Il resto sono Il medico è sdraiato Dentro la casa di legno Grossa Quella dove sono morto Io di sicuro È rimasta ancora lì Sì ma sentinello L'ho visto che sei mosso Sì Hai capito Possiamo restare Te invece Tommy Sei in posizione safe No Io sono dentro la casa Sono al primo piano Ti scoppia il bidone Accanto Nigel No no Eh È lì in parte il medico Sì l'ho visto Che è immortale Sì sì Immortale e tb shot Ma non perde vita Ma che cazzo è Gli alleati sono a terra Ok Va bene Cioè Ok È lo stesso medico di prima Tra l'altro Sì sì Due complimenti per La nuova lei Zero punti Fireball 531 Che in pieno giorno Con l'assassi In vestito di bianco Perci No no Ma zero punti Senti Lascia un attimo Che vado a pisciare Almeno ci debiamo di punto Eh ma C'è l'altro round Che lascia un attimo Sì ci tocca Siamo uno pari E allora mi son rotto il cazzo E vado col predator Tanto è inutile Che si Vado col coso Stevianza E si va a pigliare E mi son rotto il cazzo No io sto dietro Cicchina perché è andato bene Ma mica salsi Se abbiamo Se abbiamo uno scarso Al posto di andarli a prendere Così che siamo Tre contro quattro Infiazziamoci noi Si incuri lui Abbiamo vinto anche prima E tre Facciamo il slow plus Eh ma appunto Per quello che ho preso un assalto Si prende Si va e va Fa culo E io andrei a da destra Perché da sinistra Loro possono avere la sopraelevata E intanto Un cecchino ce l'hanno Si metteranno sicuramente Sul monte Perché te l'angeli Non puoi prendere cecchino E mi dicono C'era un senso Piazza Vai tra l'altro Sono un cecchino di movimento Il nuovo tipo di cecchino Ma va anche bene Perché se no ti venga la chiaffa Se spai sempre ciò che ho posto Attenzione Eh vabbè Granata come mierda Culeiros Devi che Dai andiamo va Che si arriva lassù Andiamo ma Lo vedi dove siete ancora Vai vai Ma puoi andare da destra E allora Deci essere così Ho capito Ma sei a 100 metri da me Faccio il giro Che non fa Mi spara Non riesco a prenderlo da qui Se non riesci a prenderlo Pace Tanto era matematico Che lo rilessava Ecco Auron Cioè Creos Sei troppo lontano da me Se mi ammazzano Non lo vedi Dove Ho capito Ma Riuscite almeno a spottarmelo Qualcosa No Io sono Sul Devi spottarlo te Cioè Voglio dire Sul crinale va giù Non ce la faccio A spottare Sto nascosto Se non arriva Creos Mi muovo dell'altro Rischio di morire dopo Non Cioè Se io muoio Creos Non ce la fa Ammazzare Quello che mi ammazzamento Perché è troppo lontano E quindi Sto aspettando Ma il medico Dove caccia C'è il medico C'è Rambo Rambo medico Yolo Laggiù Zaymon Yolo Zaymon Yolo Lo chiamavano Che come minima È anche un tedesco Che si chiama Simon Oh Ce n'è uno qui Ah L'ominity Ah no Non ce l'ha L'omini Carica innescata In posizione Chi mi ha marcato Lui mentre moriva Allora Oh C'è una granata C'è qualcuno di loro qui Eccolo lì Sì È qui Vedrà che sbuca da qui Che bisognerebbe provare a fare La torre Secondo me Eh io e te No 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 L'ho minato intanto Andiamo giù Tutte e due Si devono Oh si devono vedere Per forza Guarda che l'artigliere Oh tira Tira Oh Tira Lì ci sono tutte Due Dopo Drone Vado male Comunque sono tutte e due In zona là Si sono lì nel centro Ok via Velocissimi sulla torre Velocissimi in torre In centro Veloci 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 Va tranquillo Ha leftato Dio buono C'è qualcosa di fiato Chi ha leftato Che cazzo è La Un cecchino Chi è che sta a sparare a casa Così Io Cazzo ne sai Le volte Oh 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 Vedi Che si caga sotto Eh ma ma ha sparato a me Vedo una sega Che si caga sotto E intanto Cazzo E' dentro la casa Al piano di sotto Eh lo so Ma io lì sparavo Sì dentro la casa Fate una cosa Aziona Sì no sta calmi Mi devo curarsi Non fin di vita Lo vado a chiappa io Dai La vendemmia La vendemmia Anche se ci muori Tira una granata su Granata Sì è dentro È andato verso di qui Verso di qui dove Eh Eh vabbè Qui dove Finanza centrale È ancora al piano di sopra Sì sì è lì Oh prova a fare la torre Che lui si affaccia di sicuro Sì aspetta un attimo che mi sto posizionando Meno male che ho fatto io Ho beccato quello là Bastardi Cod'è fatto te Vai lì Va Tutte e tre Vai a accesso Ah sì è giusto Andrà a accesso Pappappapp Invitiamo Auron vai Arrivo Il cecchino In movimento Poesia Tommy ti carriera lontano è piaciuto come gli ho smirati tutti è ma già le bombita auron queen nel canale una mia bimba è mai piccolino ora perché ho abbassato per la bella ola di ciao ma non lo fa chiamato da un attimo a mezzaregatti forse perché non è nella lista amici che sono bene ci sono è un aggiungo auron alla chiamata e c'è ragione invece di fa sta cagata non me lo ma perché nessun amico ha trovato che non faccio già parte di questo gruppo dovevo aggiungere la lista amici allora per quello siamo in sta cazzo di di merdata quindi roba a c'è un bolster vostra averlo un giorno ma c'è la fia nella lista amici però c'è una caccia delle casse delle casse ma no chiede amicizia cosa mi da cagate ah buy credits 2.600 costa di gran cazzo ok 2.600 costa della cartella di gran cazzo 2.600 costa 2.600 costa 3 eccomi siamo tutti devo aspetto a che mi accetti l'amicizia ora non mi viene nella lista mesi che devo dirottare un po di luce qui cazzo costa 15 euro in parte del prezzo ma fa ma aspetti ma apre chi le casse ma alcuni forti di dovresti dovreste averne ma le ho aperte un amica punti non ne ho allora si è carino però scherzando il mio film preferito chiunque lo insulti riceverà una bomba sotto il culo nella prossima ma intendi il gioco come dire bella via di proporlo però non è troppo che mi dovrebbe aver accettato la vediamo forse di farci anche euro andiamo sentite sì ok ma mi fa questa cosa tutto schermo che tipo se tu guardi oddio ah lo posso muovere le mimetiche è gigantesco stafighe senti possiamo staccare staccazze di webcam che a bello che l'ho rotto i coglioni no dai che fosse brutto non lo voglio vedere guarda io sono l'unicorno e non su quell'altro con questo cazzo di cuffie che ti ho già visto il webcam sul canale di tommy tu e lui tu e lui tu e lui che bestemmiate insieme in sincronia cazzo nel loro rapporto patrimoniale che tu puoi trovare creos in webcam solo sullo streaming rapporto assolutamente non platonico ovviamente sì sì va bene quando mi ha finito con le cagate se magari domi che sei combinato puoi startare o no stavo cercando di è che io prendo la classe per ferita di creos no 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 siamo quindi street e non rovinarlo eh appunto eh arrivo io ma che cazzo dite ma è una bestia il diversionist cosa? è forte il diversionist ma che sta da dire? ha l'arma straforte ma a livello di utilità dai non trollare non serve a cazzo se vuoi prendere l'artigliero ho sbloccato l'artigliero l'arma forte ce l'hanno anche altre classi adesso bisogna vedere ci fossero opzioni per disabilità il guerrigliero ah no non ce l'è neanche ancora il guerrigliero no beh quello io voglio il fottuto assassino allora siamo vediamo se siamo in attacco di difesa fa come quello di prima che è andato in giro con il decito assassin creed in pieno giorno clear sky assassino vabbè dopo ha preso il medico non è che ha fatto qualcosa di siamo in difesa eh roba che abbia c4 bla 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 non è che abbia fatto troppo di diverso eh dopo l'artigliere l'artigliere ci sta l'ha preso auron credo no ma è meglio il loro medico ma che medico mauron deve questa mappa no auron deve prendere mauron c'è quello e basta il diverzionista il diverzionista allora io prendo il cecco ho venduto tutti gabriel attenzione cazzo di quattro classi ce ne fosse una realmente utile forse forse l'unica è il tecma in realtà neanche allora chi aveva il cecchino io eh stai cazzando se mi lasciano a fare un minimo mossa li trucido tutti proteggete il vip appunti in acqua ok sminiamo in giro chi che non c'è nessuno con le mire come no a dove siete andati? tommi e fino si stavo cliccando per comprare buonamente più a te hai già aperto il coso ho sbagliato ho schiacciato lo sparo orca troia carica innescata e in posizione dai andate a spottare la gente che poi io da dentro qui parto rilevata attività ostile segno la posizione sto piazzando una mina ah ciao ci hanno il disturbatore non ci voglio fare no mi hanno battuto sparando ah mi hanno battuto sparando mi hanno battuto sparando ti hanno battuto sparando diciamo carica innescata eh mi sono stato sopra e mi hanno battuto sparando quanto fa ma da dove t'hanno sparato si sa di fronte di fronte a noi dritto per dritto ah ah la vabbè insomma esatto esatto ok l'unico che ho capito qualcosa è Crayos l'importante è quello come si ah no ma l'ho visto il ping sto sbinocolando ma non vedo eh ma da qui potrei anche andare su ma il tetto qui no no come l'arma dell'artigliera è buona oppure fa cagare sono tutte no aspetta cos'è l'MP7 mi sa che mi prende ecco lei che c'hai allora io sono dentro la casa dove c'è il 2 eh poi io sono quello della casa dove c'è l'1 ma se nessuno spotta eh ma l'unico che ha il drone è Auron eh se nessuno spotta eh ho capito mi devi tornare eh eh no 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 appunto senti ma se io la sentirella dov'è che l'avete vista? mi ha spottato qua dentro mi ha spottato qualcuno ma i nemici stanno facendo rumore e sta meglio dietro 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 no vabbè ho fatto una cagata eh ci vado io o niger resta litte eh occhio occhio eh qui fa un culo ecco subito vabbè stavo provando a fare una roba era cazzata era a farla spara 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 hai scavalcato? no volevo vedere se riuscivo a strisciare ha fatto il cecchino vabbè il pezzo è il round è lì dove siamo morti tutti lì era 1 eh sì il cecchino è lassù sul poggio classico poi secondo me non ha senso che prendi il cecchino e ti metti qua il cecchino è lassù qui ho sentito quello questo quello della casa lì hanno presso hanno presso il 2 mi sa hanno presso il 2 niger eh no dai lì davanti a te che fai uno spari il nemico ha il nostro attenzione hanno anche l'1 o no beh cazzo dal muro troia no ma sei no è in adrenalina in rush forse ci resti noi noi ci puoi restare no non è più in adrenalina ci dovrebbe diti diti un attimo fatemi senti eccolo lampieri guarda ok perfetto è qui 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 F df df dovevi andare df per il corpo a corpo ma che f devi sparare se ci andiamo ma ho sparato senza mirare infatti non funziona eh minchia si funziona ma cazzo stavi per fare la bossa del secolo eh infatti si no no 4 in solo non devi prendere il giardino bastardi andate a fare il culo se ti trovo pesante a tirare infatti t'ha ucciso in corpo a corpo non ci sono un abilo oro cioè aspetta fammi uscire al menu principale ah voi siete in partita? non ci sono un calcio